Benvenuti in questo video, io sono Gionato5 e siamo su ID. Allora, vi dico una cosa iniziale perché avevo già registrato questo video per passare al livello 57, avevo fatto anche i progressi giusti, ma purtroppo la registrazione è venuta male, quindi adesso mi tocca rifare il video e lo sto rifacendo per voi, quindi voi guardate il video, mi raccomando. Stanno un video breve perché le cose che vi volevo far vedere le avevo già fatte vedere nello scorso episodio, visto che appunto avevo fatto i progressi lì, solo che mi tocca rifare il video, quindi vi faccio vedere. Allora, adesso abbiamo un po' di cose, adesso faremo un po' di cose veloci. Allora, io praticamente ho, passando al prossimo livello, ho sbloccato la roba nuova e, vabbè, praticamente ci dà delle ricompense in più, perché mi ha dato due campi in più, due campi che ho messo per la soglia in questo caso, perché la soglia me ne serve tante, visto che devo fare la soglia per il sushi, e quindi devo fare tanta soglia, e quindi sto facendo, c'ho un campo in più, c'ho due terreni in più per la soglia. E niente, vabbè, lo volevo registrare nel video, infatti ho fatto anche le coltivazioni, qua vedi il giglio e il giglio, due di giglio ho fatto, devo fare riso, non giglio, vabbè, lo rifarò quando sarà coltivato tutto e quando dovrò raccogliere lo rifaccio, ci metto il riso. Perché non metto uno di giglio e uno di riso, sennò non lo coltivo a tutte le colture. Poi vabbè, qua abbiamo le api, che sono sempre a tre alveari, quindi non è cresciuto. Per espanderlo bisogna l'accogliere in ettare, me ne devo accogliere tanto in ettare, quindi ci vuole un po' di tempo. Il video cercherò di farlo durare 10 minuti, perché dopo ho altre cose da fare. E niente, dopo non so se mi chiamano, quindi nel dubbio, ragazzi, mi chiedo scusa. Poi, ho fatto, ho raccolto poi l'ana delle pecore, perché così ho fatto la missione, e ho raccolto, aspetta, ho raccolto l'ana delle pecore e ho fatto un incarico. Adesso c'è un altro incarico qua, che facciamo subito. Un altro incarico libero? Ha tre lingotti di argento, ah ok, va bene, lo facciamo subito. Fabrica di Frank, la fabrica di Frank serve tre lingotti di argento, quindi gli le diamo appena finisce, appena arriva il camion glielo diamo. Ecco, è arrivato, attenzione, proprio lui, eccolo lì, è perfetto, lì, tac. E lo comandiamo subito a dare in consegna. Poi, il prossimo cos'è? Ah, questa roba qua, questo è un po' più complicato da fare. Però ci proverò a farlo, non lo so in video, ma ci proverò comunque. E spero non che questa volta mi abbia risolto bene, se no mi tocca rifare di nuovo il video, quindi diventa una tiritera di nuovo. Poi, come nuova cosa, mi hanno dato 5 gemme, e adesso non mi ricordo bene, le calecca, che possiamo fare della macchina di caramella. Adesso possiamo fare le calecca, il nuovo è a livello 60, cosa sono queste caramelle gommose? A livello 60, non so quale siano, beh, lo vedremo quando arriverò a livello 60, se ci arriverò. Perché non ho detto che ci arrivo, perché per fare esperienza ci vuole un sacco di tempo, quindi i video usciranno sempre più in ritardo, perché di questa serie intendo. Perché ho un sacco di cose da fare e devo fare un sacco di esperienza, quindi ci vuole un sacco di tempo. Poi, vabbè, quel chiosco dei fiori, il negozio dei fiori è rimasto uguale a livello 65 del prossimo oggetto, che probabilmente ci vorranno i girasoli, che ci vuole un po' di tempo. Per livello 65 ci vuole un po' di tempo, 65 mi sembra. No, non è candelificio. 65, ok, candelificio, ok. E ho fatto, ho già iniziato a fare due di caramelle, perché consuma uno di succo, quello che sto qua, lo sciroppo. Ne consuma uno alla calecca, quindi devo farne un po' alla volta, non posso farle tutti insieme perché ci vuole un po' di tempo. Potrei espandere ancora la macchina di caramelle e fare un altro prodotto, però adesso non ci serve, quindi perlomeno le gomme me le tengo. Poi, vabbè, serve fragole, ciliegie e lo sciroppo, quindi non serve neanche tanto per fare le caramelle, però ci metto 12 ore a farsi, eh, 12 ore. Quindi ci vuole un po' di tempo per fare ogni singola calecca, ci vuole un po' di tempo. E poi per la nuova novità del livello 57 ho sbloccato l'olivo, che produce le olive, ovviamente le olive, se no non può produrre altre cose, produce le olive per forza. E niente, vabbè, l'olive produce, quindi adesso, dati il tempo di produrre, ci vogliono, un giorno ci vuole per fare l'olivo. È già cominciato un po' perché l'avevo fatto nello scorso episodio, che ci ho messo un po' a registrare, e quindi è passato un po' di tempo. Quindi un po' meno di un giorno, ma era un giorno, sicuramente sarà un giorno di tempo, perché crescono le olive, quindi ci farà un bel po' di tempo. Quindi non so se ogni tipo di, ogni fase di olive, che l'olive diventa grande, ci mette sempre di più o ci mette uguale, forse ci mette uguale, non lo so. E basta, le novità sono queste, quindi adesso vi faccio vedere, ricordiamo la ricompensa, le carico qua, perfetto. Per livello 58 ci serve 234.000 esperienza, quindi ci farà un sacco di tempo, e il prossimo episodio uscirà un po' più avanti, non so quando. Che dà il banco delle insalate, quindi potremmo fare insalate adesso, qua nella lattuca come primo ingrediente. E qua c'è anche l'insalata di feta, quindi può essere anche questo, ma lo vedremo nel prossimo episodio, perché questo, sempre sono riuscito a farlo, perché non è detto che riesca a fare i videoepisodi. Poi ho fatto i muri d'oro, 3 muri d'oro e un po' di strada dorata, quindi sto cercando di rendere tutta la mia fattoria dorata, così è molto più bello e molto più esticamente molto meglio. Raccogliamo tutto qua, le coltivazioni sono per 3, quindi adesso si fa fatica a raccogliere roba, perché mi da sempre per 3, quindi devo raccogliere poco alla volta. Ok, così. Vedete quanto stiamo registrando? 6 minuti, ok, va benissimo. E poi, va bene, allora, la barca del fiume qua, del lago, e, va bene, ho accolto qua, potrei raccogliere la roba, adesso posso raccogliere un po' di roba. Facciamo un po' di questo, fai questo, quella è l'agosta, quella è l'anatra. Raccogliamo le piume, raccogliamo l'agosta, la cosa di agosta, ok, e raccogliamo tutte le copiante giovani che ci sono qua, le reti, le reti per agosta, ok. Questo per qua, sto occupando il video per fare un video un po' più lungo, se no, li dura pochissimo e non ha senso fare il video. Andiamo avanti, intanto vi faccio vedere tutte le cose che ho sbloccato, fa vedere se la barca vende qualcosa. Ah, questi qua, vabbè, potrei fare tutto tranne lo spiedino dell'agosta, questo qua, lo spiedino dell'agosta, che questo qua mi richiede tempo, quindi non riuscirei a fare questa barca. Quindi, vedi, le cose a tempo sono fastidiosissime, perché sia la barca che il derby, infatti questo non lo sono in vicinato, se volete che entri in un vostro vicinato, me lo dite, probabilmente dovete dare una mano a fare i derby, perché io non so come si fa, perché gli richiede un tempo, perché gli danno pochissimo tempo e devi fare tutte le missioni. Secondo me ci vuole spandere gem per fare le cose, perché se richiede pochissimo tempo, devo fare le cose in poco tempo, quindi è incredibile. È incredibile, perché non si può fare il derby e la barca, quindi per questo non faccio queste cose qua, perché mi richiedono poco tempo e io non posso fare cose in poco tempo, perché ogni cosa richiede, tipo la calacca richiede 12 ore, quindi per fare quelle cose lì ci vuole un sacco di tempo. Ed è per questo che i derby non riesco a farli, per questo non sono in alleante, in un derby, in un vicinato, perché appunto non riesco a fare le cose del derby, quindi sarei inutile alla squadra, però se voi volete darmi i consigli, volete aiutare e facciamo crescere questa serie e andiamo avanti, può darsi che io possa riuscire a fare il derby, quindi mi potete insegnare e magari mi date i consigli, io non sono un esperto, quindi certo che ascolti i vostri consigli. Avere quanto stiamo registrando? Sì, ok. E poi ho fatto il pass della fattoria, ho fatto le missioni, ho fatto quasi tutte le missioni, a parte quelle in più, perché queste qua richiedono spendere gemme, 10 gemme, 10 gemme ho in carico, quindi io non ne ho con le altre gemme, non posso shoppare, quindi non va bene. Ho fatto queste missioni qua, più in più ho fatto queste due missioni qua, quindi potrei fare altre due o tre missioni, ma non vorrei specare tempo per niente, quindi per il momento non lo faccio. Poi vi faccio vedere al sentiero del pass, sono arrivato, ho completato il primo pass, è in formazione beta, quindi vuol dire che stanno testando come va il pass della fattoria, il nuovo pass della fattoria, perché ce l'ha già stato prima, solo che adesso l'hanno allungato. E il sentiero del pass, vedi, il sentiero del pass parti e inizia qui, quindi da qui inizia il secondo pass, ci sono tre pass e praticamente ogni volta che completi uno ti passa all'altro, se vuoi comprare le cose del pass a pagamento puoi farlo, ma vi sconsiglio perché è una spenda di cose per niente, anche se comunque danno un sacco di risorse, soprattutto l'esperienza, 89.000 esperienza è tanto, per me, tantissimo per me. E poi vabbè, ho operato il pass principale, il primo pass, e dopo sono avanzato un po' con il pass fino alla 706, vedete il pulcino, stato 606, quindi sono arrivato fino a qua, facendo missioni, facendo un po' di cose, e ci sono arrivato, e ci è voluto un po', ma alla fine ci sono arrivato, e arrivare al massimo è impossibile perché bisogna spendere soldi e gem, quindi non si può fare. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, è durato breve, e ho fatto durare, fammi vedere qua, possiamo fare un altro incarico? Vabbè, lo faccio poi un'altra volta, adesso, non voglio perdere tempo, e non voglio farvi perdere tempo. Ok, possiamo raccogliere la soia, perfetto, perfetto che raccoglio anche di più stavolta, va bene, allora io spero che il video vi sia piaciuto, sperando che vi sia venuto registrato bene stavolta, perché la precedente registrazione è venuta registrata a capovolto, quindi non è venuto registrato bene, sperando che stavolta sia venuto registrato bene, e anche l'audio, speriamo di sì, quindi io vi vedo su un like, un commento per darmi la vostra opinione riguardo alla serie, riguardo a quello che è il progresso che vi sto portando, e le novità che sono uscite su questo nuovo livello di E-Day, livello 57, e magari il titolo vi metto a livello 57, così sapete che il livello si sblocca, magari se non volete che ve lo dico, lo potete dire nei commenti, per l'altro per adesso ce lo metto, poi dopo se voi me lo dite, nei prossimi non volete, non metto mica, così evito di, ecco, non posso più raccogliere perché sono pieno pieno, veramente pieno, e anche i limiti di spazio sono un problema per me, va bene, io vi invito a lasciare un like, un commento, condividere, sui video canale, e noi ci vediamo in un prossimo video, a presto! Grazie!